Sì, viaggiare! Affidati all'Agenzia Stella del Sud per le tue vacanze. Cortesia, professionalità, utili suggerimenti per rendere il tuo viaggio un'esperienza indimenticabile. L'Agenzia Stella del Sud ad Agropoli e Vallo della Lucania si distingue con una serie di servizi utili per chi desidera viaggiare sicuro. Noleggio bus con conducente, viaggi gran turismo, biglietteria aerea, ferroviaria, bus, nave, viaggi di nozze, crociere, pacchetti turistici e tour di gruppo. Agenzia di viaggi e turismo Stella del Sud ad Agropoli in via Piave 20 e Vallo della Lucania via Passero 3. Telefono 0974 82 54 74. www.stelladelsud.it Mail info at stelladelsud.it E per domenica 29 dicembre 2019 viaggio per la decima edizione del presepe vivente nei Sassi di Matera. Partenza da Agropoli e Vallo della Lucania. Quota per persona 45 euro. Pagina Facebook Agenzia Stella del Sud.